numero 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 che roba è 17 numero 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 che vuoi soffiare e soffia tanto non è che porta fortuna ecco grazie numero 48 ce l'avevi no e allora scusa vedi che soffiare non serve a niente siete anche voi i standi di questo gioco della tombola in cui il tombolone non riesce a far uscire i numeri che volete la gente vuole continuare a soffiare non capite i numeri che vengono detti bene oggi ho la soluzione per voi cioè da bellissimo assistente vocale amazon alexa perché direte voi perché grazie ad alexa è possibile giocare a tombola grazie alla skill che ho trovato così a caso girovagando per le skill di alexa quindi mi raccomando lasciate un like iscrivetevi al canale e condividete il video con i vostri amici che sono stufidi questo gioco della tombola che ho mai dato un po' un gioco per vecchi direi che è decisamente molto meglio il gioco con alexa e adesso vi spiego come usare questa bellissima skill e soprattutto in descrizione date il link per scaricarla la skill si chiama tombola punto esclamativo e si può attivare facilmente chiedendo che alexa di alexa avvia il gioco della tombola bentornati nel gioco della tombola c'è già una partita in corso la riprendiamo oppure ne iniziamo una nuova iniziamone una nuova alexa iniziamo una nuova partita interrompimi in qualsiasi momento in caso di ambo terno quaterna cinquina un tombola dicendo ad esempio alexa tombola siete pronti per il primo numero siete pronti per il primo numero si soffiamo numero estratto 11 i topi ambo come fanno tutte le feste ecco i numeri che sono già stati estratti 11 andiamo avanti no alexa tombola stiamo giocando per ambo posso estrarre il prossimo numero quindi praticamente alexa riesce anche a evitare che persone simpatiche come zio emilio oppure donno giuseppino possano urlare bambo al primo numero o tombola quando bisogna fare eterno bravo che ha colorizzato questa skill era un vero genio però certo non è che possano rimanere così con tutte queste cartelle e questa alexa così abbandonata ed è per questo che cerchiamo adesso qualcuno con cui giocare a tombola allora io ho trovato una camion qualcuno che si è appena svegliato che non vuole assolutamente giocare a tombola ma non fa niente prendi una cartella a caso ok non c'è neanche riflettuto un attimo va bene cominciamo alexa giochiamo a tombola ok ecco tombola tombola include contenuti per adulti che potrebbero non essere adatti a tutte le non è la tombola che volevo giocare io no stop giocare con il nonno che è possibile nonno che è successo stiamo giocando a tombola ma in maniera molto particolare allora io l'altra sera ho vinto 10 euro ma fa lasciare ecco qua non so sono i corsi abbiamo vinto 10 euro a questa tombola abbiamo manco giocato ok bentornati nel gioco della tombola c'è già una partita in corso la riprendiamo oppure ne iniziamo una nuova iniziamone una nuova scusa non ho capito iniziamo vuoi riprendere la partita o vuoi iniziarne una nuova iniziamone una nuova scusa no vuoi riprendere la partita o vuoi iniziarne una nuova nuova fantastico iniziamo una nuova partita numero estratto 39 la corda al cane posso estrarre il prossimo numero? sì numero estratto 48 il motto che parla direi che canta un'altra con 48 adesso posso estrarre il prossimo numero? sì 22 il matto qua diventiamo matti posso estrarre il prossimo numero? sì numero estratto 77 i diavoletti ma è possibile? numero estratto 65 no è sotto è sotto ma è sopra posso estrarre il prossimo numero? sì numero estratto 17 ma è hai fatto ambo Alexa ambo ripeti i numeri con la quale hai fatto ambo attendendo il suono di conferma tra un numero e il successivo 17 65 sì ti piacevo ehm così se si gioca più base non si gioca più facile stop abbiamo finito evviva eh sì che schifo di gioco vai zitta no lo sto staccando e quindi ragazzi questo gioco della tombola ormai è diventato troppo vecchio per noi ragazzi giovani anche di giocare con Alexa non rende molto meno vecchio questo gioco anzi ti fa incazzare conto di più perché devi dire sì ogni due secondi lui sta fissando la telecamera e diceva voglio andare a dormire e quindi sono d'accordo con lui per cui se vi piacere ci vedete come vi vedete la campanella ci vediamo in un prossimo video senza Alexa e senza Tombola che è un gioco noioso e brutto arrivederci